Quattro giovani donne, quattro storie d'amore e di vita, fuori dagli schemi tradizionali. La nascita di una profonda amicizia che legherà i loro destini, intrecciando le loro vite. Amore, segreti e tradimenti, e la capacità di rimettersi in gioco in una spirale di passione. La vita insegna a non fermarsi all'apparenza, e tu sai andare oltre. L'amicizia è qualcosa che nasce quando meno te lo aspetti, un po' come l'amore. Non ci sono regole o congetture, ma solo sentimenti spontanei che man mano prendono forma. L'amicizia è un po' come l'amore. L'amicizia è un po' come l'amore.